Dai cancelli della fabbrica alla piazza. Si sposta la protesta dei 223 dipendenti della OM Carrelli di Modugno, chiusa da circa due anni, che hanno organizzato per giovedì 31 ottobre una grande manifestazione nel capoluogo, aperta a quanti precari studenti o lavoratori vorranno manifestare solidarietà in merito all'olodramma occupazionale. Gli operai della OM, al momento in cassa integrazione, sono da mesi in presidio davanti ai cancelli dell'azienda di proprietà della tedesca Kion, per impedire che vengano portati via 250 carrelli elevatori già pronti, del valore di 13 milioni di euro, e che rappresentano l'unico legame che tiene ancora in vita l'azienda di Bari. Giorni fa, per convincere i dipendenti ad abbandonare il presidio, la Kion si era resa disponibile a cercare sul mercato nuovi investitori interessati, ma sono in molti a temere che si tratti dell'ennesima presa in giro. Dopo mesi di trattative fumose incontri inutili hanno spiegato gli operai, adesso è chiara la consapevolezza che le istituzioni, locali e nazionali, non fanno gli interessi dei lavoratori. Più volte è stato chiesto alla Regione Puglia sia di avviare un iter di esproprio senza indennizzo, sia di acquisire lo stabilimento e i suoi macchinari, per riavviare l'attività aziendale anche senza la proprietà. Le risposte però sono state sempre negative. Stanchi di una situazione che va avanti da troppo tempo, i dipendenti dicono di non essere più disposti a seguire i soliti teatrini istituzionali, che portano solo ad accordi volti a favorire le multinazionali, che prima intascano decine di milioni di euro in finanziamenti pubblici e poi delocalizzano fregandosene dell'occupazione. È il caso della Natuzzi, della Bridgestone, dell'Ilba e di tante altre realtà che, concludono gli operai, sono pronti a tutto pur di arricchirsi sulla pelle dei lavoratori e sulle spalle dei territori martoriati da disoccupazione, precarietà e devastazione ambientale.